Non è che va evitato Perché tre sberle vado giù Dici che bisogna scappare da questo Non lo possiamo ammazzare fondamentalmente Però fai un tentativo e dimmi cosa riesci a fare Scusa col cuore lì davanti Esatto, solo che io non sono mica riuscito a prendergli lo sto cuore del cazzo Il problema è quello Perché lo so che lascio il cuore lì davanti Però Mirando in alto magari Provare a mirare in alto Anche perché qua sembra non arrivare un cazzo Quindi Ah no, però l'ho colpito E' rimasto arrivato in ginocchio Dopo quattro colpi di lancia granate L'ha sentito questo colpo Allora Oh, io adesso provo a usarla magnum Ho finito i colpi di granate Oh, nel caso di carico Proviamo a fare una roba Amica Madonna come lo sente Quello della magnum L'ho ucciso Non è caduto per terra Ah, stiamo calmi per terra L'ho ucciso Allora Allora Ah, ma basta mirare in alto Cazzo Eh, vabbè Però così mi stupra Allora, stiamo calmi Fermi Allora Porco Porco Il signore In realtà vorrei rifarmelo Ma in modo di faccia non ce voglio Perché prima per evitarlo Perché ho iniziato prima A schivarlo Quando vedevo che non Non succedeva niente Però ti buttarlo giù E mi ha colpito Che schivava Vabbè No, no, no Ma è una stronzata Una stronzata Adesso una sberla Come minimo Non la prendo lo stesso Però nel momento in cui Capisci che devi mirare in alto Io miravo al centro Perché sai cos'è il problema Di sto gioco E di tutti i giochi come questo Tendenzialmente Se io miro in alto Sta demente Miro al soffitto E io non mi posso Cioè, capito A me Non mi viene da pensare Che se sparo al soffitto Becco a lui nel petto Capito Ma sto problema Ci hanno sempre avuto Sti residenti Giustamente Io me ne dimentico Però Ricordami Sbaglio O con il primo Non avevamo crinato così tanto No, così tanto Non mi pare Cioè, qua stiamo crinando Parecchio di più Eppure il primo L'hanno rifatto Modellandolo su questo Per carità Il primo era più semplice A livello di meccaniche Ma Cioè, addirittura Boh Comunque Ficca sta chiave Della minchia Facciamo che rivederci Anche il video Scaramanticamente Ah, perché scende la serranda Per questo tu dici Che lui ha danneggiato La porta Ho capito Eh Sì, sì, sì E che non potrebbe indire Vedi Ma l'urida P*** di merda Ha sparato a soffitto Oddio, ti va No, vabbè Ma cosa sta succedendo Io Sta succedendo di nuovo Beppe Di sparo non prende danno Sta succedendo di nuovo Ma con cosa Stai sparando No, vabbè No, vabbè Però adesso mi state rompendo i coglioni Adesso mi state rompendo i coglioni Adesso i colpi Gli stanno passando attraverso Ma dai Io con lanciagranate Lo colpivo Però non miravo in alto Io lo colpivo Dritto Quattro colpi Come se me l'ha sentito Il quinto è iniziato L'ho visto un attimo andare in ginocchio Poi si è ritornato su No Al testo niente Io al tentativo prima Mirando in alto Lo beccavo sul cuore E lui Cioè Si lamentava Però Se adesso cominciamo Cioè che adesso Mira al soffitto No, vabbè Ma vedi che Poi due colpi di magno Ma due Proprio di numero Ed è andato giù Oppure non vedevo che soffriva No, però adesso mi sto incazzando Vedi Allora Eh, porco di Niente Se due colpi non li spreca Perché lui c'ha già l'animazione Non siamo contenti Che gioco di merda Eh, ho ucciso Quanti colpi Adesso io sto ricaricando Perché ho fatto Eh, due caricatori di lancia granate Senza usare la magnum Senza usare la magnum Due caricatori di lancia granate E E una cura Per forza Perché Fine del turno Completa la fabbrica Pazzesco Trofeo Niente Due caricatori di lancia granate Granate normali Non incendiarie E zero marium E marium Vabbè Una cura per forza Perché lei deve Calcola questo Io l'ho venuto usare Lei spreca i colpi Per forza E nel momento in cui Spreca i colpi Lui non si stunna Nel momento in cui Lui non si stunna Mi piglio le sberle Perché Basta veramente Che lui abbia iniziato Il primo frame Di animazione Dei cazzi suoi E sto colpo Va da un'altra parte O se non va da un'altra parte Gli si schianta addosso E non lo tocca Ma avete proprio Scassato la minchia Cioè io ho capito 2004-2006 Che cazzo ero Per l'oggi fa Ma si può fare 2002 Ma si può fare un gioco così Bor Caccia la madonna Minchia Meno male È uno dei miei giochi preferiti Livello 1 2 3 4 Siamo a livello 3 Dove vado? Grazie per il consiglio Beppe Andiamo a livello 4 Non lo so Non so Per andare giù Io andrei Ma tu devo seccarlo adesso Aspetta Che qua C'è Sefirot Sefirot Vabbè Vediamo che minchia C'è a livello 4 Un video Un video Pazzesco Andata così E si vedo Anna così D'altronde Mi ha fatto male Dove cazzo sono? Qua c'è un salvataggio Ma giustamente Non ci saranno i miei oggetti Questa ascensore? Questa ascensore? Dove mi condurrà? Guarda un salvataggio Con tutti i parabellums Tutti i cazzi Inizia Ah ci sono? Ci sono? Ti ho provato la roba? No 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 C'è altra roba Ascensore non funziona Però tua madre Io so di morto di nuovo Quindi significa Che proprio vedo che Questo gioco ci si deve Accontentare Del Esatto Di quello che riesci a fare Perché se no Poi adesso Vabbè Non è un problema Però sto perdendo tempo Adesso sai quello Che mi preoccupa È che io ora Sono da un nuovo salvataggio Ma tutti i cazzi miei Sono da un'altra parte E non ci si può andare Tanto Cioè per il momento No ma tu devi capire Che io non ho più niente Io mi sono portato dietro La Manium E non ho Ah ok Cioè capito Non ho la pistola Provo ad esplorare Tutti i piani di sto ascensore A vedere che succede L'ho solo sentito Non so cosa sia L'ho solo sentito Ma palesemente Non è dove devo andare Andiamo a un posto livello 1 Se si ricollega Vabbè Vabbè No vabbè No ma tu Tu non lo vuoi sapere Dove porta questa shortcut Non lo vuoi sapere Si porta nella villa Porta nella villa Porta Porta dove arrivi con il treno Beppe Ah Quelle porta lì Ho capito dove Vabbè È inutile Perché c'è il treno di mezzo Però Però Eh no no Io posso passare Posso passare come Posso tornare alla villa Se voglio Ma tanto dove dovete trovare la villa Non ci vado a fare assolutamente un cazzo alla villa Perché Io adesso Non c'ho più niente alla villa Io c'ho tutto A fanculo E mo Perché la domanda è Io adesso come arma Ho solamente più la magnum La spreco praticamente Quindi quello che adesso faccio È tornarmene al livello 2 Dove c'era quella bestia Farmi un giro lì E vedere che succede Ma mi sa che dovrò ricaricare Perché io non posso mica andare avanti Con Cioè Con la magnum E mi rifiuto di spaccare la magnum Porta pazienza Vediamo chi minchia è No Eh vabbè Andate qui È un colpo di magnum È andato Niente praticamente Era un killer croc qua Io però voglio andare avanti E scoprire Se per caso Mmm delle erbe Se per caso La porta adesso è aperta Attenzione Ok Ok Grande Allora praticamente La famosa shortcut di cui parlavo È al piano 2 Dopo un killer croc Ho usato un colpo di magnum È andata così Ok Allora lo faccio anch'io Allora quindi livello 4 C'è un salvataggio Ma non lo uso Livello 4 C'è un salvataggio Non usarlo ancora Ma anche perché Adesso la domanda è Ci dobbiamo portare tutti gli oggetti A livello 4 Ce li teniamo qua No daga per favore È vero Teniamoci di qua Minchia Stanno facendo solo quello Oggi pomeriggio No esatto Sono otto coglioni Allora Andiamo a posare sta magno Ora io mi immagino I commenti Di chi guarderà questi video Tra qualche mese O tra qualche anno Eh E la gente che dirà Ma l'uride teste di cazzo Bastava che andavi avanti Te ne fottevi Gli oggetti te li portava Sempre tutti Automaticamente Oppure l'uride teste di cazzo Bastava che facevi E funzionava da cassone Che ne so Se qualsiasi stronzate Di questo tipo E niente Entro nell'ascensore Livello 4 Mi equipaggio solo La pistola Che pure l'ho fatto così Prima avevo tirato Un salvattaggio tattico Comunque prima Tanto ne abbiamo Di salvattaggio adesso E qua Bidi Ha fatto una fine del cazzo Bidi ha fatto una fine del cazzo Ma è andata così Ha una certa Ha rotti i coglioni E' come che qua C'è sempre qualcuno Che cade in un buco Spaccato il cazzo Fate un po' di attenzione Contro Baborra Al territoriale Ah qua Vabbè C'era Vabbè Il prossimo giro Che facciamo indietro C'era Della roba Per dar fuoco Ascensorino Parabellum Dammene Dove dove Ah si si Parabellum L'avevo preso prima Ma l'avevo preso prima Quando ho fatto il video Si si C'è qua c'è per tirare il salvataggio Ma non è il caso Nel caso Pannello di alimentazione della diga Stabilire un punto di alimentazione elettrica La corrente può essere fornita A qualsiasi area Fino a due punti Fino a due punti Cambiare i punti Fai no un attimo L'ho fatto no No perché Quell'ascensore Mi pare sia bloccato Adesso non te l'ho detto prima Ma mi pare Quell'ascensore Non ti fa fare un cazzo Prova La corrente non sembra essere attiva Hai ragione Hai visto No bisogna fare qua Solo che Oh madonna Non ci capisco un cazzo Qua Beh è tutto rosso Ti posso dire questo Per ora non ci sono Tutto rosso Solo che io non capisco Reservoir Fire tank Warehouse Pump room Rest room Ah forse devi farli diventare tutti verdi Ma che minchia fai Boh non lo so Ne schiacci uno E qua si illumina mezzo quadrante Che cazzo Ah stiamo calmi Ah ho capito Ho capito Ho capito Allora Tutti i punti bisogna fare Perché ho sbagliato La corrente non tornerà Fin quando Non avranno diforniti tutti i punti Ok ok Aspetta Allora stiamo calmi Perché se già Questo non ci arriviamo Fino a due punti di distanza Ok ora ho capito Perché praticamente Se io faccio uno Se parto da qua Uno Due Tre Questo no Non lo becca Ho capito bene Ho capito bene Sì allora Sta bene un punto La corrente No no Ho capito assolutamente Un cazzo Cazzo per uno Non ci posso credere Per quello centrale Per quello centrale Di merda Ma io l'ho fatto Se mi ricordo Ah perché sicuramente Bisogna mettere Questo qua è in basso Sinistra C'è un quadrato C'è un quadrato in basso E fai quella Esattamente Precisamente Poi c'è una riga Poi c'è la linea retta Che c'è In alto Ho fatto Ho fatto il secondo Mi pare La seconda luce Quella che c'è Mi pare La seconda luce Da sinistra Quindi prima Non la Secondo me Perché la terza Non gli va bene No Quindi farla La seconda Proviamo un po' Aspetta aspetta La seconda E così Il centro È coperto Ok E poi in basso Ho fatto No ho fatto Se non mi sbaglio Il quadrato C'è quel quadrato Allora Praticamente Non quello centro Esatto In alto a sinistra Vero? In basso a sinistra Mi pare In basso a sinistra? No 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 Forse in alto Hai ragione Adesso mi sto confondendo Fai in alto a sinistra In alto Era in alto Era in alto Vedi vedi Fatti Piaci Un attimo di pazienza Ma che cazzo è sto posto Non ce lo dobbiamo esplorare tutto Vero? No non penso No raga Perché No no Per favore Sembra che la corretta Di bristinata Va bene Salvo Salvo Eh non mi son portato di cosi Ma sono un coglione Ma sono qua Sono qua Eh mi niziona di congiunti là Vabbè però sei il migliore Sono il best in the world Vai Via Eh ho messo in pausa Ma sono coglione Ah ma aspettavo Tipo la scelta Che scendeva di più Alla fine Alla coglioni Sì Ma Alla fine Alla fine C'era un tasto più veloce Per ricaricare Così Esatto Qua ho fatto che di liberare la zona Tanto Ho dei zombie di merda Abbiamo solo dei colpi Esatto Io ci sto andando proprio secco Tanto Sì sì Qua Attenzione Molto bene Io se avessi imparato inizio gioco A fare R1 cerchi Invece di andare nel menu Per ricaricare Ah un'altra cura raga Siamo pieni Allora le bottiglie Per farmi le molotov di sopra Sì E' un'altra cura Un'altra cura Che Queste cure Ne stiamo trovando Cioè tutto il gioco Non ce n'erano qua Adesso ce ne sono Una ogni piano Senza roba Ma almeno male Meno male Visto che siamo a fine del gioco E' stato più punitivo all'inizio Che alla fine E poi di qua Dove si va? Le lasci lì le erbe No Le erbe le ho prese Ho lasciato le bottiglie Per ora Andiamo a vedere Che succede di qua Sì eh Sì Non indovinerai mai Adesso ho parto Vedrà da porta Vabbè A questo punto Facciamolo già Andiamo pure su Mi hai rotto il cazzo Però eh E niente Sono su attenzione Perché Però io non ci voglio Di caricare Basta Allora Qua come funziona? Questa porta È sprovvista di maniglia C'è un foro A forma di culo Di moffetta Qua? Quanti siete? Guarda che se sei su attenzioni Torna indietro E ti curi Guarda che qua ci sono altre bottiglie No però torna indietro Che cazzo sta succedendo? Ancora non capito Se è caduto qualcuno Di sopra Se mi stanno battendo Sul muro Ma non penso Mi stanno battendo Sul muro Sono silenzioso Non sto dicendo Un cazzo Raga Sa alzati però No? Vabbè raga Stai giù Andata così Quello è il mio riflesso Mi ha fatto venire l'ansia Non hai mai visto Un flipper come questo Pazzesco Devo dire Che i flipper Sono tanta roba Mappa? L'ho ammazzato Mappa Sto posto E' di nuovo grande Avete già rotto il cazzo Ti pensavi di finire il gioco Stasera Finiamo la minchia Finiamo E' grande vero? Sì Cioè ci sono altre stanze Continua Boh una porta Manca da vaniglia Io sono andato dritto Ce l'ho già Qua c'è un muletto Sto sale Ovviamente qua mi servirà billi Perché lì c'è una scheda pazzesca Da prendere in alto Altre cure Vabbè allora mi curo Però a sto punto Direi che me l'hanno messa lì apposta Qua c'è un flipper Ah no Sì serve billi Perché uno deve alzare il muletto Ho capito Va bene Dammi ste cure Tu sei sceso giù Dalla stanza del flipper Sì 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 Scuso giù Qua c'è un muletto Che dice Ma Eric Non sento nessuno camminare Che è sempre un ottimo Lì vedo una manovetta Delle munizioni per fucile Sono entrati in un'altra porta Per sbaglio Perché sono un deficiente Vabbè però non succede ancora un cazzo Stiamo calmi Torna indietro Ok poi Perché io quando cazzo sono Ma questo è ancora un stabilimento rifiuti Ma dove cazzo siamo L'Aimeri Allora L'Aimeri Ma allora Qua però non posso andare dall'altra parte Tendenza No esatto Che mi deve lanciare praticamente L'altro No Qua si salva Dice la manovella Fermo un po' Questi comandi Regano l'alimentazione dello scarico Delle acque Nelle taniche E la rotazione delle grate Usare il dispositivo Riempi svuota Ruota sinistra Ruota destra Riempi Sei sceso giù da scala pionio o no Ah da qua si è andato Riempi Ma sta succedendo Cosa devo fare Ruota sinistra Ah devi caricarti il percorso Perché qua Ah devi prima spingerle sotto Esatto E poi alzare l'acqua Esatto Ah no Quindi svuota Vaffanculo Ah però Non capisco Che cazzo mi ruoto Se ruoto Vabbè scendiamo giù Diamo un'occhiata più da vicino Perché dall'altra parte C'è quella manovella Che ci ha proprio una porta Capito Qua ci sono 27 scatole Allora Allora Eppur si muove Eppur si muove Ma pure ha dato un trofeo Per aver provato a fare sta minchiata Ti è sapendo che lei non le può muovere Se provi a muoverle Ti dà un trofeo Serve lui Niente Niente E quindi vado oltre Che oltre sarebbe? E c'è una porticina Che va Che va giù Ah questa porticina Reservoir Un video raga Sì Eh Billy Billy Gino Porco Però Rebecca Siamo ad Alba Le rive dell'Ostura Cosa sta succedendo? Che ha visto? Ah interessante Baborra Baborra Ah Ah Il muterfucker virus Billy? Eh Eh Sbilliz Sbilliz Va bene Quindi l'abbiamo recuperato Qua Ecco perché E chiusa a chiave Dall'altro lato Ma veramente C'è una cosa Con il codice Ma Andata così Billy Gino Niente Boh Ehm Lui su attenzione Ah si? Lui su ok Eh perché tu Prima della cosa Si è ricordato Niente Il gioco si è ricordato Allora Niente Facciamo senigma Con questo Eh boh Piglia Oh Oh Eh roger Probabilmente Qua cosa devo fare Devo spingere Questo di lì In maniera Da poter spingere Questo di qui È vero o no È vero o no In realtà Un po' come l'impressione Di aver fatto una stronzata No vabbè Ma non Potevo anche Stare lì Vabbè Non è quello Il problema Andiamo qua Ruota Destra No No Possiamo anche stare calmi Ragazzi Ruota sinistra Dai Beppe Sei vivo Sto facendo Sto facendo questo enigma Qua Lo metto di qua Tu 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 Ah no Ma che cazzo Facciamo in due Perché devo salire sulla scala Sono un coglione E però Così facendo Cosa mi spingono Madonna A meno che io Non salga Già Sulla scatola Probabilmente Sì Sono un coglione Perché adesso non posso Passare dietro Troppo pericoloso Ragazzi Eeeh Cazzo Eh non posso Passare dietro Che palle Non si possono Attirare Vero le scatole No Dobbiamo di entrare Di uscire dalla stanza Mi pare Si rimette Il nuovo posto E questo è un problema Entriamo Sciamo Boh Adesso Adesso Io ce l'ho fatta Eh può dire Che fa poco Ci riesco Anch'io Devo Ho sbagliato Ma è una sonsata Nel momento in cui Capisci come funziona Che sto gioco A capire come funziona Ci va a nascenza Perché ci sono delle robe Che tu dici Ok funzionerà In quella maniera là No Loro hanno deciso Che invece funziona La maniera di Cristo Esatto Allora La spingo fino in fondo No Beppe No Beppe 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 ti assicuro Che È appena successo L'emblema Di quello che abbiamo detto Non si incastra Non si incastra Non è che non si incastra Che la cassa di ferro Non galleggia Eh no Ma non ci devi buttare La cassa di ferro Devi solo buttarci La cassa di Ehm Cioè tu hai messo Quella di ferro Laggiù in fondo Eh sì Porco No No Io ho messo Quella di Eh boh Lui sta già giocando E gli fa Resident Evil 8 Resident Evil Code Veronica Lui aveva già capito tutto Capito Sono fascinici Porco Poi uno deve dire No Perché quando sono diventati Action Sono diventati più brutti Vaffanculo Devo creare così Perfetto Allora Poi me ne vado qui Perché adesso così Spionando indietro Per aggiungere Quella carta Magnetica In muletta bisogna Di una batteria Che per adesso Abbiamo trovato Perché io ho proprio Sbagliato Perché sai perché Ma io so dove Prenderla a batteria Ho 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 Non prenderla Nella villa Per quello L'ascensore principale Di far arrivare Alla villa Perché dobbiamo uscire Nel cortile fuori Sì Mi ricordo Mi ricordo Eh L'unica cosa Aspetta Fammi ragionare Perché qua Sto crinando Perché mi sa che È tutto Devo fare tutto il contrario Di cosa stavo facendo Perché se questo Non lo posso più spingere Perché questo Non si muove Ah ma attenzione Ma la grata È una sola Non sono due Ti avevi capito Questa cosa qua No Io Sono sempre due La grata è una sola È solo l'inquadratura Del cazzo Questa manovella Dove cazzo Dobbiamo mettere Così Stavo facendo Mette locale C'è una porta C'è una porta Che serve la manovella Solo che non ho mai Cagato Quando lo dicevo No 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 Ho capito No 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 Sto cagato Perché l'ho vista Quella dove c'era Il cazzo di coso Il mic mic Eh mic mic Ma mi spiega dove cazzo L'hai preso Mic mic Tu non si chiamava Mic mic Il cazzo Vogliono l'oro Ma avete proprio Scassato la mic Cioè io praticamente Penso di aver fatto Tutti gli errori Che potevi fare Cioè io ho fatto L'enigma Nella maniera In cui dovresti farlo Ovvero sbagliandole tutte Tutte le combinazioni possibili Le sbagli Finché non la trovi Cioè io proprio Se potevo avere Una briciola di culo Non l'ho avuta Io ho fatto Tutti gli errori Che era possibile Fare in questo enigma Gli ho fatti Maledetto cazzo Te Pensa te Quindi Ora ci siamo Ok Allora Un attimino Ci sono Quindi Salì lì Vai di qui Piglia qui E fino a qui Ci siamo Tutto sto casino Per una manovetta Di merda Io ti dico che cosa ho fatto Cioè non ho fatto Veramente un cazzo Però Io ho messo Io ho messo la manovella Nella porta Ma non ci sono entrato L'ho lasciata lì E poi Sono andato a prendermi La batteria Buon Buon Già finito il gioco No 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 ma non Per andare poi Nel coso lì Però non la inserisco Ma la volevo solo portata Nella zona di salvataggio Pertanto Ti dico che A parte qualche zombie Non incontri nessuno di serio Perché si è liberati La strada Quindi è solo una roba Da fare il backtracking Finalmente Cioè ma è una cazzata La fa in dieci minuti Perché mettere La roba E poi andare Ritornare indietro A livello 1 Dalla villa Siete che adesso Che sono entrato nella villa Mi Mi è venuto un po' d'ansia Sono scappando dalla villa Buon Ansi L'ansia Però ho visto il vico Della via l'ansia Ma che cazzo E poi c'era degli zombie Però è una cazzata Fai subito Quelli sono gli unici Mi nemici che hai Ficcata la manovella No ma non devi girarla Ma nessuno ti ha detto Di girarla No 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 Ma la gira La gira Però tu non entrare La gira solo Ma non entra Poi da lì Torna indietro Vai livello 1 E vai alla villa Ah giustamente Uno per volta Sull'ascensore Perché se no Raga è un casino Ma vi state facendo Ah Cioè non posso Con l'altro Non ci posso andare Perché l'ascensore è su Ed è andata così Ma siamo seri Ma dove scusate C'è un ascensorino piccolo Non possono andarci Tutti e due Sì però vedi Che te li sposta Te li sposta entrambi No Lei è rimasta sotto Ah cazzo E poi ma come minchia ho fatto Scusa ma non l'ho presa L'ho presa la batteria Perché l'ho staccata Ah e Beppe sei migliore Non dimmi che ho No raga io Puttana Di ritornare la villa Sono un coglione Ma è successo Come l'altra volta Con salvata Già salvato No Che fa Vabbè Comunque tanto Tu ti rompi la registrazione Lì io torno un attimo indietro Se si arrivi Di me Ma che coglione No ma perché Ti Beh te lo spiego io Perché se gli schiacci Attiva l'ascensore Mi capite la batteria Ah ecco cos'è successo E come prendo la batteria Cioè era lì la batteria Giusto Attenzione Beppe Non si prende la batteria Non la prende Boh Allora io mi sono fatto i film Sono venuto giù come un coglione Ok perfetto Lui fa fare su e giù all'ascensore Ma non va da mica la batteria Ok Ecco perché non l'ho presa Questo è un problema grave Vabbè ma aspetta Abbiamo ancora una porta Da cui entrare Ecco la lì della manovella Ma allora perché Siamo tornati nella villa Perché Ti spiego Perché io vedendo Il posto per la batteria Ho detto Ci fa tornare con l'ascensore Dalla villa Sicuramente per prendere Quella batteria Eh no Invece era solo Che potevamo lasciarci Gli oggetti indietro Ok E ci siamo due coglioni E ci siamo due coglioni